Da tempo infastidisce, minaccia, molesta, danneggia. Un atteggiamento sempre più violento, quello di un bulgaro di 40 anni senza fissa dimora che ieri è finito in carcere in conseguenza dell'aggravamento della misura cautelare, l'obbligo di firma alla polizia, a cui già era stato sottoposto da un paio di settimane dopo aver palpeggiato e spintonato una minorenne in centro storico. L'uomo, che si muove con le stampelle perché senza una gamba, non si è mai presentato a firmare, nemmeno si è presentato davanti al giudice per l'interrogatorio, ma ha continuato con le sue intemperanze fino all'arresto di ieri da parte degli agenti della questura e della sezione di polizia giudiziaria della municipale. Il quarantenne, che frequenta ormai da mesi il centro della città e il pronto soccorso, si è ripetutamente reso protagonista di danneggiamenti a colpi di stampella, resistenza pubblico ufficiale, liti, molestie nei confronti dei passanti. Con il gioco truffaldino delle tre campanelle ha cercato di attirare l'attenzione dei passanti invitandoli a puntare soldi, ma ha finito col catturare l'attenzione della polizia che lo ha fermato e controllato. L'uomo, un viaregino di 51 anni, pluri pregiudicato, è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa e segnalato alla prefettura per il possesso di tre grammi di hashish. È successo ieri al mercato settimanale, sono stati gli agenti in servizio in bicicletta a notare l'uomo. Per sfuggire al controllo ha spintonato un poliziotto e si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Poi, rintracciato di nuovo, è stato inseguito e bloccato, protagonista un nigeriano di 26 anni in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora. Il giovane è finito nei guai ieri quando un agente delle volanti lo ha visto entrare di corsa nel cantiere ex valore in via Berruti e quando è riuscito a fermarlo è stato spinto con forza. Il giovane a questo punto si è diretto verso il centro storico dove poco dopo in via San Vincenzo è stato di nuovo visto. Ne è nato un altro inseguimento al termine del quale ad avere la meglio sono stati poliziotti. Il nigeriano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Due gravi incidenti stradali stamani, il primo intorno alle 8 e 15 in via Sila a Vergaio. La peggio l'ha avuta una donna di 40 anni che si trovava dentro una delle due auto che si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale. La donna è stata soccorsa in codice rosso da un'ambulanza del 118 e trasferita d'urgenza al Santo Stefano. Intorno alle 10 e 45 il secondo incidente con un pedone investito in viale Galilei. Anche in questo caso il 118 è intervenuto in codice rosso. Il pedone investito è un uomo di 86 anni che stava attraversando sulle strisce quando è stato urtato dall'auto condotta da una donna italiana.